È stata inaugurata all'interno del Salone degli Svizzeri, nel Palazzo Ducale di Massa, la mostra nuova materia antica, che resterà aperta e visitabile fino al 26 luglio. L'iniziativa, voluta dagli architetti Guido Bondielli e Vincenzo Legnante, vuole rappresentare un punto di incontro dedicato al marmo e alla pietra, e un luogo per il confronto di idee e di punti di vista, di pensieri e di competenze dedicate a questi materiali. L'esposizione comprende opere della collezione Domitilla Marble Design di Guido Bondielli, opere di cinque allievi del liceo artistico Felice Palma di Massa, una scultura in granito di Pinuccio Sciola e pannelli espositivi di opere di architettura nel mondo e di opere della provincia di Massa Carrara dello studio GBA Architects and Partners. In occasione dell'inaugurazione è stato presentato agli ospiti anche il plastico del progetto di ricostruzione dell'Istituto di Istruzione Superiore Varsanti di Massa, realizzato dagli architetti Bondielli e Legnante, che con quel progetto nel 2022 hanno vinto la selezione al bando PNRR per le scuole. Abbiamo realizzato questo progetto ed è stato vincitore, quindi oggi ci troviamo a collaborare a stretto regime con la provincia, con la RUP, per poter venire poi alle approvazioni fino alla realizzazione, che vede i tempi molto contingenti, dovrebbe essere, se non vado errato, in marzo 2026.